Il blitz in una tenda mimetica dove aveva tentato l'ultima fuga, il monitoraggio via drone dell'area rurale attenzionata, il ritrovamento inatteso pure di una serra di marijuana del quale lo stesso Federico Marcelli si stava occupando. Ecco le immagini della cattura del 49enne pesarese latitante dal 15 novembre arrestato domenica da un'operazione congiunta dei carabinieri di Pesaro e di Gubbio. Carabinieri che hanno divulgato il video dell'irruzione nel casolare di campagna individuato fra le frazioni di Cugiano e Pieve di Compresseto nel comune di Gualdo Tadino. Un blitz in cui è stato arrestato Federico Marcelli sul quale pendevano due condanne per violenze sessuali, lesioni e maltrattamenti nei confronti di due donne per una pena complessiva di 10 anni e 4 mesi di reclusione. Dopo aver fermato l'ultimo tentativo di fuga i carabinieri hanno perquisito anche i luoghi di pertinenza del nascondiglio trovando una serra allestita in una camera da letto per la coltivazione di piante di marijuana di cui otto già in avanzato stato vegetativo con infiorescenze. Una serra che Marcelli avrebbe allestito assieme a un brasiliano ora indagato. All'interno della casa sono stati poi rinvenuti e sottoposti a sequestro un macete, un pugnale e un coltello a serramanico, alcune sim telefoniche, 1800 euro in contanti, un passaporto scaduto di una minorenne di assisi e il passaporto del brasiliano coindagato. Marcelli ora detenuto nel carcere di Perugia e oltre all'ordinanza di custodia cautelare emessa dalla Corte d'Appello di Ancona è stato anche arrestato in flagranza di reato per la coltivazione di stupefacente e denunciato per illecito possesso di armi bianche.